Vex era veramente un po' che non ero abituata a fare la pagliaccia, ma tutto bene, tutto bene. Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi finalmente è arrivato il video più richiesto di questo canale, almeno negli ultimi 5 mesi. So che non ho pubblicato nulla e di nuovo ne parleremo presto, spero quando ne avrò voglia e quando me la sentirò. Detto ciò, però avete già letto dal titolo che questo è il video dove vi spiego cosa ne penso della serie di Shadow and Bone, ovvero Tenebre e ossa, uscita su Netflix ad aprile. Ero molto restia a fare questo video perché ne ho parlato così tanto che un pochino da un certo punto di vista mi esce dalle orecchie, soprattutto perché abbiamo organizzato tantissime cose, soprattutto con Clarissa di Cosi Corner Candles, che abbiamo fatto le live, abbiamo commentato tutte le puntate, quindi insomma abbiamo fatto davvero un sacco di roba, è uscito il nostro watch kit dedicato a Shadow and Bone. Ovviamente io ne parlo qua su YouTube, ma sono soprattutto cose che abbiamo ovviamente fatto su Instagram e su Twitch, quindi mi rendo conto che qua abbiamo un po' lattitato, però me l'avete chiesto in tantissimi e questa cosa è veramente vera, cioè non è una di quelle frasi, me l'avete chiesto in tantissimi da vero influencer, però insomma quindi niente, ho pensato alla fine, io non ne ho voglia di farlo questo video, sembra già un delirio, vabbè, effettivamente me l'avete chiesto una quantità di persone un po' esagerata e che mi fa piacere, un sacco piacere, ero solo un po' stanca effettivamente nelle prime settimane di parlarne perché capisco tutto, però basta, ok? E niente, in tutto ciò siamo qua a parlarne, quantomeno in maniera completa, questi sono i miei appunti, in una maniera totalmente disgraziata, andrò un po' a braccio, sarà tutto un delirio, come sempre, Tiffany ti prego abbi voglia di montare con le scene, niente, dare i messaggi a me stessa tramite i miei video. Comunque, niente, direi di iniziare perché abbiamo già perso un sacco di tempo, ah mi sono scordata di dire una roba, diciamola subito, questo video sarà super mega spoiler, quindi se non avete visto la serie, cioè non ha senso vedere questo video chiaramente, perché almeno finalmente è passato un mese, ne parliamo anche con spoiler, no? Per chi fosse capitato qua per la prima volta, questo è tutto regolare, questo delirio, questo flusso di coscienza è tutto regolare, direi di iniziare a parlare un pochino della serie, innanzitutto la domanda più gettonata è Tiffany, la serie di Shadow and Bone, ti è piaciuta? Si corriserva, si corriserva nel senso che voi se mi seguite soprattutto su Instagram, perché ripeto è dove sono più attiva da sempre, la mia paura più grande nei riguardi della serie, della mia serie preferita, non so se ha senso, è che venisse fuori una merda, una merda ai livelli di Shadowhunters, ai livelli di Shannara, insomma standard medio delle serie tv fantasy, cioè una roba inguardabile, oppure che venisse fuori una roba magari accettabile ma troppo teen, quindi ai livelli di Vampire Diaries, Teen Wolf, eccetera, che non sono brutti prodotti, solo che non mi piacciono a me, quindi, cioè nel senso non è il mio tipo di serie tv, quindi la paura era tanta, le mie aspettative variavano tra il male e il malissimo, ero già pronta a nemmeno guardarla, poi è iniziato ad arrivare un po' il trailer, un po' varie robe, e mi sono un po' sinceramente anche tranquillizzata, perché effettivamente si vedeva che c'erano tante cose molto curate, ne ho parlato a lungo anche del cast, potevo non parlarne, ovviamente, probabilmente sì, ma con tutti gli sforzi che ho fatto per questo lavoro, direi che, insomma. Detto ciò, allora, partiamo da cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto, cercherò di fare un video che non sia completamente eterno, ma andare un po' in profondità su alcune cose, perché sì è vero che la serie mi è piaciuta, ma come vi ho detto, ci sono molte riserve, che non dipendono tutte dalla stessa cosa, cioè non sono tutte riserve negative per forza, sono riserve anche speranzose in alcuni casi, e in altri invece ci sono cose che proprio secondo me, no, no, cioè sono andate male e non ci c'è più, vabbè, ok. Partiamo da cosa mi è piaciuto della serie, innanzitutto Inej. La mia bambina. Possiamo spendere veramente un paio di minuti per parlare di quanto è perfetta la mia bambina? Cioè, io non lo so, Inej non può fare nulla di male, non può sbagliare niente, è veramente una personaggia perfetta, fa tutto bene, lei è davvero. Ho apprezzato un sacco come Inej si interfaccia alla storia, ho apprezzato moltissimo Amita Sun, e a questo punto mi chiedo se Amita Sun è Inej o Inej è Amita Sun, perché sono state perfette, sono la stessa persona, sono la stessa cosa, non si capisce più chi è personaggio e chi è protagonista, chi è attrice, vabbè. E niente, io davvero sono super super felice, perché Inej ne è uscita come la mia bimba, quindi niente, Inej bellissima, quando si mette la mano sul cuore e guarda Sanctalina, io ho proprio la tenerezza, mamma tutto, Inej si merita di essere la capa del mondo, perché è la persona più buona, più cari, vabbè basta, perché, ok, cioè io mi rendo conto di essere un po' troppo di parte e non in una maniera sana, però Inej, ma baby, felicissima, Inej dentro la serie è Inej al 200%, altra cosa che secondo me non solo è stata super positiva come rappresentazione, ma ha proprio tenuto in piedi tutto lo show, perché se dallo show togli Jasper, lo show crolla, Jasper secondo me è un personaggio che dentro questa serie è una superstar perfetto, Kit, io lo dico da appena, l'ho visto che secondo me era adattissimo e sono felicissima, perché è stato bravissimo, fa super ridere, è il personaggio che più di tutti tira sul ritmo, lo fa andare, è quello che ovviamente fa da spalla comica tutto, è quello che fa girare ovviamente moltissimo tutta la parte comica, ma oltre alla parte comica riesce davvero a tenere in piedi un po' tutta la baracca, cioè io non riesco a immaginare questa serie senza Jasper, soprattutto poi come immaginare Jasper senza Milo, cioè la stronzata di infilare la capretta che veramente è un espediente, diciamo quasi una presa per il culo che si fa di solito quando si scrive la sceneggiatura, l'espediente della capretta è così stupido che alla fine tiene in piedi la baracca, cioè ha fatto ridere, l'ho visto due volte la serie, l'ho vista prima in anteprima grazie a Netflix e poi dopo l'abbiamo rivista insieme nelle live, cioè l'espediente della capretta mi ha fatto ridere sempre, e insieme a Jasper, cioè Jasper è un personaggio secondo me a parte molto molto coerente con il suo del libro, quindi cuori all'infinito, e Kit è bravissimo e senza di lui tutta questa serie sarebbe stata una palla mortale, non so come avrebbe potuto reggersi. L'altra cosa che poi proprio io ho amato moltissimo è questa chimica tra lui e Inej, soprattutto però possiamo dire anche estesa ai corvi, un po' meno secondo me, però va bene facciamo un po' democristianità per 5 minuti, concedetemelo, però soprattutto tra lui e Inej c'è una chimica pazzesca, sono perfetti, sono i miei ciccini, e questo mi ha rincuorato molto 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 molto. Tra un po' tutti gli altri personaggi devo dire che forse gli altri miei preferiti sono Mal, che secondo me per tanti motivi Mal è diventato uno dei miei preferiti, intanto perché finalmente siamo ad avere dei latti di Mal, che è chiaro che dalla serie di libri noi non riusciamo ad avere, perché Mal viene visto solamente attraverso gli occhi di Alina, perché è lei che narra tutta la vicenda in prima persona, e già Alina non sa una sega nella vita, figuratevi provare a mettersi nei panni di un'altra persona, a parte le mie battute su Alina che saranno numerose, però effettivamente vedere Mal che vede la storia come agente, quindi la vive in prima persona, è molto più interessante, e riesce a restituire un personaggio molto più a 360 gradi. Poi secondo me Archie Renaud, che è ovviamente l'attore che interpreta Mal, è stato veramente bravo a dargli tutta una serie di connotazioni molto giuste. Secondo me è azzeccatissimo proprio come cast, e azzeccata la scrittura di questo personaggio, che riesce in qualche modo diciamo a rendersi molto più sfumato rispetto al libro, per ovvi motivi. Noi vediamo la sua prospettiva, e questo ci allarga moltissimo la sua storia. A me è una cosa che è piaciuta molto, l'ho trovato anche molto bravo. Allo stesso tempo molto fedele però allo spirito del personaggio, quindi devoto ad Alina, quindi un personaggio che comunque mette sempre lei davanti a sé, e che comunque ha certi punti fermi, potremmo dire certi punti nord fermi. Comunque insomma a me è piaciuto molto. Gli altri due che per quanto non mi abbia convinto del tutto il loro inserimento in questo modo, soprattutto l'inizio in cui viene introdotta Nina, che è completamente a caso, completamente sfilacciato, buttato lì, ma superata quella parte, dopo si viene a creare ovviamente la dinamica Nina e Mattias. Loro due sono una cosa bellissima. Cioè, per quanto io sia molto d'accordo sul fatto che con Nina hanno avuto una scelta molto timida, cioè potevano effettivamente fare un cast con una ragazza molto più in carne, ecco, però, e lì c'è stata evidentemente un'occasione un po' sprecata, sono d'accordo, però, nonostante questo, Daniel secondo me è bravissima, interpreta Nina perfettamente, e la chimica tra lei e Mattias è bellissima. Cioè, io proprio sono due personaggi che ogni volta che sono comparsi in video avevo gli occhi a cuore, quindi molto 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 contenta di loro due, azzeccatissimi secondo me, anche come dinamica. L'unica cosa che mi dispiace, poi magari ne parleremo dopo, è che effettivamente la loro storyline è talmente sfilacciata dal resto, che è molto forzata e alla fine della fiera sembra molto buttata lì, e ovviamente molto repentina, è vero che questo è il loro prequel, quello che noi non vediamo ma sentiamo durante l'introduzione di Nina come personaggio in Sei di Corvi, detto ciò, però io sono super stan di Nina e Mattias, perché bellissimi, bellissimi, anche se metà delle scene le ho guardate con gli occhi chiusi perché c'era la neve, ma quello è un altro discorso. Belli, bravi e io sono fan, basta. Elenco velocemente una serie di cose che mi sono piaciute, che mi hanno convinto, poi vi spiego perché alcune di queste invece secondo me hanno avuto dei cali clamorosi. In generale devo dire che secondo me gli attori sono stati tutti azzeccati, tutti abbastanza giusti, anche un Ben Barnes l'ho trovato molto azzeccato, non mi è piaciuta la storyline del Darkling e quello ne parliamo dopo, però comunque lui a fare quello che doveva fare è stato molto bravo. Jessie Maylene che interpreta Alina, secondo me è stata brava, anche se si vede la sua ovviamente immaturità, nel senso che non ha avuto un'esperienza così grande come attrice, anche se lei usa i pronomi she, them, quindi adesso uso il femminile per comodità. Comunque Jessie secondo me in questa sua ingenuità che è riuscita a trasmettere moltissimo lungo tutto lo storyline di Alina, è vero che a volte è risultata un po' ripetitiva, un po' statica, però Alina alla fine è una pigna nel culo, quindi io l'ho vista comunque molto azzeccata e secondo me lei comunque ha portato a casa un'ottima interpretazione, anche se con delle pecche sicuramente, però giusta ed è riuscita soprattutto a trasmettere l'ingenuità e il fatto che Alina non sappia niente della vita e è molto vero. Poi devo dire anche molto brava secondo me Genia che per quanto abbia troppo poco spazio è una personaggia che a me non è dispiaciuta per niente, anzi lei è molto brava come ha colto secondo me lo spirito ovviamente di lei in una maniera anche giusta, troppo poco spazio sulla scena ovviamente, ma d'altronde era chiaro che con tutta questa roba in gioco c'erano dei tagli da fare e poi secondo me comunque in generale il casting non è stato sbagliato, ecco ci sono cose che mi hanno convinto meno, soprattutto un casting che proprio, cioè io dall'inizio che non riesco proprio a visualizzarmelo dentro e ci sono state una serie di problematiche che parliamo dopo, è ovviamente l'unico personaggio che non ho nominato ora, in più ovviamente come tutte le persone dotate di qualsiasi affezione nei confronti di una serie o di entrambe, ecco una delle cose che più mi spaventava dall'inizio, ma ancora di più posso dire con il trailer, era la mescolanza della storyline di Seidi Corvi con quella di Tenebre e Ossa, chiaramente la storia e la serie si chiamano Tenebre e Ossa, non si chiamano Seidi Corvi, quindi è chiaro che la base doveva rimanere ovviamente la storia e la indialina, perché se no non avrebbe neanche avuto senso infilare tutto il resto, cioè per ovvie cose, e quindi io immaginavo che ci sarebbe stato un forte sbilanciamento, ovviamente più verso Tenebre e Ossa, e poi un pochino di introduzione di Seidi Corvi, però pensavo molto meno rispetto a quello che hanno rappresentato effettivamente nella serie, per molti versi ci sono puntate dove sono molto più bilanciati rispetto a quanto io, insomma, potevo immaginare, ecco soprattutto verso la fine, e a me non è dispiaciuto come sono riusciti effettivamente ad incastrare le due storyline, le ho trovate abbastanza credibili, ecco l'unica cosa che pone dei problemi per la storyline successiva, cioè i corvi hanno un percorso che è chiaramente, diciamo, sovrapponibile a quello che in teoria dovranno avere all'Ice Court, e questa cosa un po' mi fa strano, perché dopo diventa una dinamica ripetitiva nella serie tv, spero che così troveranno un po' più di espedienti, però comunque a me questa cosina della missione è piaciuta molto, tengo anche in considerazione il fatto che secondo me, se tu da tutta questa roba togli i corvi, Tenebre e Ossa è una serie noiosa, noiosissima, ed era inevitabile doverli mettere, perché davvero se avessimo dovuto solo seguire Alina, a parte che sarebbe stato uno strazio vero, ma soprattutto mancava totalmente di ritmo, mancava totalmente delle parti dinamiche, mancava totalmente delle parti divertenti, e questo avrebbe secondo me inciso moltissimo sulla qualità della serie, e la cosa che mi sono figurata, un po' come vi dicevo all'inizio, sarebbe andata molto più verso un teen drama, che già comunque, ecco, rispetto ad avere questo tipo di storyline, e quindi chiaramente molte scelte sono dovute alla mancanza di budget, e su quello approfondisco dopo, però è chiaro che senza sei di corvi, Tenebre e Ossa si spegne, purtroppo non c'è abbastanza spazio per tutto, per trattare tutto e soprattutto trattarlo bene, questo un po' secondo me è l'unica pecca generale della serie, che c'è talmente tanta roba, che ovviamente qualcosa va sacrificato, il problema è cosa hanno sacrificato, ma ci arriviamo. E' chiaro che poi mescolando le due storyline qualcosa è più riuscito, altro meno, come vi dicevo ovviamente secondo me l'introduzione di Nina, e in generale tutta la storyline di Nina, che secondo me però rispetta il fatto che Nina sia quasi staccata da tutti e da tutti, lungo il corso di tutta la serie, fino ad arrivare alla fine, 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 che non è ancora uscita in Italia, però è chiaro che gli espedienti sono un po' forzati, quando i corvi arrivano, cioè è tutto effettivamente un po' forzatino per alcuni versi, però in tanti casi funziona, in tanti casi è giustissimo. La mia puntata preferita è la quinta, quella dove attraversano la fold, perché è super divertente, è la puntata più dinamica di tutte, poi viene da una puntata che è la quarta, che è stata proprio una pugnalata nelle ovaie dalla noia, proprio mamma mia, perché ovviamente lì si vede che il budget non c'era, proprio nella puntata dove si vede più di tutti, però devo dire che, nonostante questo a me la mescolanza ha convinto, perché ci sono elementi più funzionali di altri, però tenendo conto di tutto il baraccone, fila, ecco, cioè vista da fuori, chiaramente ci sono cose che ti attraggono, ecco, se poi penso soprattutto a persone che non hanno letto la serie, dovessero vedersi solo la parte di Tenebre e Ossa, alla seconda puntata avevano cambiato canale, cioè è ovvio, poi ovviamente arriviamo alle cose che forse fregano solo a me, cioè i dettagli tecnici, quelle cose un po' più, diciamo proprio i pipponi, quelli che proprio fregano solo a me, cioè diciamo che dal punto di vista visivo, mi è piaciuto quasi tutto, ecco, perché secondo me, diciamo anche i dettagli, quelle robe proprio minuscole, tipo i poster, i libri, la biblioteca, tutto diciamo l'immaginario che ruota attorno alle leggende, insomma un po' al folklore rafchiano, secondo me, ma non solo poi al folklore rafchiano, ovviamente anche all'attualità, perché i poster sono molto tangibili, per me è stato molto bello, cioè è stato esattamente come avrei sperato lo facessero, quindi non posso dire che quella cosa lì mi ha deluso, anzi fighissimo, anche gli easter egg, le inside jokes, tutte queste cose, la presenza di lì, che abbraccia Alina, cioè quanto è bella quella cosa lì, è dolcissima, è la cosa più dolce che ci fosse, e devo dire che, ecco, su queste stronzate che non interessano a nessuno, io ci ho perso la testa, perché sono quelle minuzie, che secondo me impreziosiscono moltissimo un immaginario, ecco, lato ovviamente invece i pipponi tecnici, c'è regia, fotografia, effetti speciali, montaggio, colonna sonora, secondo me alcune cose molto bene, altre molto male, per dire, secondo me il montaggio in certi punti è brillantissimo, ci sono scene montate in alcuni modi che a me sono piaciute molto, mi viene in mente la scena dove il Darkling e Alina si avvicinano alla porta, oppure quelle dove c'è Inej che sta facendo una cosa serissima, e in quella dopo c'è Jesper che sta facendo i macelli, diciamo, ci sono proprio scelte di montaggio che secondo me sono state bellissime, la regia invece è molto discontinua, la regia che, ripeto, frega solo a me evidentemente in questi casi, però la regia, secondo me, nella prima puntata, dà proprio un'idea di differenzazione molto evidente, tra la parte di Tenebre ossa e la parte di ovviamente Sei di Corvi, perché la parte di Tenebre ossa è un racconto quasi più lineare, e alla scena diciamo più diretta, insomma all'inseguimento, si segue con questi campi che vanno dal primissimo piano al piano americano, insomma al terra, un po' queste cose però diciamo molto lineare, con i flashback, a un certo punto parleremo anche dei flashback, perché rega, e invece la parte di Sei di Corvi, che invece è super dinamica, a me questi movimenti violenti di camera, spostamento, zoom, eccetera, sono piaciuti molto, perché effettivamente riuscivano ad esprimere tutta la dinamicità che invece esprime Sei di Corvi, diciamo che se avessero avuto la stessa regia, l'impressione non sarebbe potuta essere la stessa, ecco secondo me, prima puntata, bene, dopo, diventa molto ripetitiva questa cosa, e non mi ha convinta gran che, cioè, mi piace una doppia regia, un doppio registro nell'inquadrare, nell'agire, nel riprendere, però diventano entrambi abbastanza ripetitivi, avrei voluto vedere magari cose un po' meno scontate nella parte di Sei di Corvi, o comunque delle, insomma, delle innovazioni, cosa che ad esempio secondo me fanno nella quinta puntata già molto di più, però anche lì in maniera timida, ma ovviamente queste sono scelte dovute anche al budget, anche a tutta una serie di fattori, però devo dire fotografia molto buona per la maggior parte delle cose, tra l'altro io sono convinta che la maggior parte delle scene del Darkling, non siano tutte fatte in post, ma siano proprio fatte dal direttore o dalla direttrice della fotografia, che ha fatto un lavoro della Madonna, cioè quando oscura, non è fatto in CGI, non è fatto in effetti speciali, diciamo che non è fatto tutto in post produzione, ma è fatto soprattutto grazie all'abbassamento, alla gestione della luce, che secondo me è stata fatta molto bene, ma ripeto, queste sono le pippe tecniche che piacciono solo a me, però secondo me in questi prodotti, diciamo la differenza qualitativa tra un prodotto scadente, e un prodotto, diciamo invece buono, come io penso che sia, Tenebreossa, si vede anche da queste cose qua, qua ci ho visto delle intenzioni precise, nel lato tecnico, di solito il lato tecnico invece è completamente per aria, nelle serie trascione, o nelle serie fatte male, qua secondo me ci hanno lavorato molto bene su questo, potevano fare meglio? Assolutamente sì, anzi molto, però almeno c'è un'idea, un'idea che spero poi verrà chiarita più avanti, invece una cosa che proprio non mi è piaciuta per nulla, perché l'ho trovata proprio basic, cioè sembrava quasi presa da uno stock online di Artlist, o di qualsiasi altro rivenditore di music for free, è la colonna sonora, la colonna sonora l'ho trovata veramente di una mancanza di personalità totale, proprio cose basiche, fantasy, ma neanche fantasy, diciamo un po' epiche, da infilare qua e là, l'ho trovata proprio noiosissima, una mancanza veramente grave, contando che io nella vita volevo fare la colonna sonora di Sadie Corvi, potete assumermi per la seconda stagione, faccio un gran lavoro, vi rivoluziono la colonna sonora, tanto che sto perdendo le giornate a prendermi delle scenette di Sadie Corvi, e di, no vabbè di Tenebre Ossa, ma continua a chiamarsi Tenebre Ossa questa serie, scusatemi, non mi entrerà mai in testa, e a montarci sopra i pezzi che ho io nella testa, perché non capisco, veramente non capisco perché qua non si sia fatto il lavoro della Madonna sulla colonna sonora, cioè a partire dalla sigla mi sembra tutto basico, cioè proprio quello che ti aspetti, che non ti rimane in testa neanche a prescindere, invece secondo me qua bisognava usare, qua bisognava andare con dei pezzati belli, destabilizzanti, cioè me la vedo un po' alla colonna sonora di Marie Antoinette, però scelta da me, mando il curriculum, no vabbè lo so che questa cosa non frega nessuno, ma non lo so, io nella testa ho sempre detto che non riesco ad immaginarmi, la prima scena di Sadie Corvi, dove si cammina per Catterdam, e di sottofondo non ci sono i clash con Guns of Brixton, come è possibile non immaginarsi questa cosa, cioè è quella la scena, ok è già fatta, cioè già la descrizione ti dice che ci deve essere quel pezzo lì, ora mi calmo, perché mi rendo conto che questa roba interessa solo a me, è ok, però insomma, pippe tecniche, queste qua ce le siamo sbangate, questa è ovviamente la vostra misti quartiere, che pensavo di essersele sbangate veramente, le cose invece non è vera, è tutto falso, mi ero scordata di parlare degli effetti speciali, che dire, follettine e follettine, bene bene la Fold, cioè bene la Fold secondo me, a Alina invece sembra Goku, a quanto pare il suo potere non è controllare la luce, il suo potere a quanto pare è fare le onde energetiche, hanno dimenticato che luce e energia sono due cose diverse, non si è capito perché, tant'è, e secondo me è quello malissimo, sul resto devo dire non mi sento di criticare granché, ecco, lì nella regia. In generale poi, secondo me la cosa preziosa, e comunque riuscita di tutta la serie, che i dialoghi sono credibili, perché ovviamente ci sono dei dialoghi, soprattutto i bickering, diciamo quelli proprio da battibecco avanti e indietro, continuo, tra Jasper, Inej, Katz, insomma, tutta una serie di cose che secondo me sono riuscitissimi, ma, come dire, quello mi aspettavo che fosse molto buono, anche perché parti da dei dialoghi che sono degli ottimi dialoghi, quindi, insomma, era già, era già facile. E la cosa che devo dire premio tantissimo di tutta la serie, è che, e soprattutto l'aspetto che mi sento di premiare di più di tutta la serie, è che comunque, anche con questi grossi cambiamenti, perché ci sono dei cambiamenti enormi, questo è un adattamento, non è assolutamente una trasposizione pari pari, comunque questo adattamento, secondo me, riesce a rispettare a pieno, il senso della storia, e lo spirito dei suoi personaggi e delle sue personagge, anzi, vi dirò di più, secondo me, Tenebre e ossa, per certi versi, ne esce meglio, per altri, secondo me no, soprattutto uno che vi spiego dopo, e un altro che, secondo me è minoritario, però comunque è la cosa che mi ha dato più fastidio, però allo stesso tempo, secondo me, in questo universo, Tenebre e ossa riesce a rispettare le premesse di tutta la serie, questo è un aspetto non da dimenticare, perché ci sono tante serie che non lo fanno, o non riescono a trasmetterlo, invece loro ci riescono, e per me questo è super prezioso, e appunto, secondo me, Tenebre e ossa, ne esce meglio, per tanti versi, perché sembra quasi, avere più nuanze, soprattutto va più veloce, va molto più, più snello, prima di passare alle cose negative, però secondo me c'è un importantissimo discorso da fare, perché ci sono, queste sono le cose che soprattutto mi sono piaciute, cioè comunque io mi sono gasata un sacco, per tantissimi aspetti, tantissime puntate, eccetera eccetera, cioè la quinta, proprio io ero, mi hanno fatta felice, proprio, voi non avete idea neanche del modo, in cui ho visto tipo la serie in anteprima, che tra l'altro, tipo non ne potevo parlare con nessuno, non potevo farne proprio parola, menzione, eccetera, quindi ho ricevuto questa cosa, mi è stata mandata, e per due giorni, è stato terribile, perché era l'unica roba alla quale ho pensato, ho sottoposto pure Mr. Fiction, alla visione insieme a me, da persona che non ha mai letto, sei di corvi, sì lo so, se ve lo state chiedendo, stiamo ancora insieme, nonostante questa sua grandissima mancanza, io ci provo, non serve a niente, vabbè, a parte questa cosa qui, diciamo che, io avevo veramente il cuore in gola, prima di vederla, ed ero disperata, perché se avessero rovinato tutto, cioè voglio dire, non è che stiamo parlando di una serie a caso, stiamo parlando della mia serie preferita, ed ero partita con aspettative bassissime, invece, secondo me, hanno fatto un buon lavoro, un buon lavoro, per tanti versi, ecco però, il grande punto che secondo me va toccato, è uno, cioè, molte scelte, sono dovute evidentemente al budget, cioè, la mancanza di budget, si è vista in un sacco di aspetti, o comunque, un budget che, come già premesso dagli autori e dalle autrici, non era bassissimo, ok, ma neanche un budget stellare, calcolate che fare una serie fantasy di questo tipo, costa, fantasy e storica, ok, di questo tipo, costa sei volte tanto quanto costa una serie normale, ecco, e, per dire, mentre ho visto la cura in alcuni dettagli, che chiaramente ti non costano tanto quanto altri, cioè, per dire, anche le chefte, le chefte sono tutte abbastanza curate, i vestiti sono abbastanza curati, e poi vengono contrapposti a gente in giacca e cravatta, che non ha minimamente senso a palazzo, ci sono, il palazzo di per sé, è un palazzo, poi come dice anche il Darkling, un posto più brutto non l'ho mai visto, ma effettivamente, cioè, da dentro sembrava un po' una roba basic, ci sono tante cose che secondo me poi, ti fanno capire che il budget era risicato, soprattutto, secondo me, si nota dalle ambientazioni di tutte le varie scene, e l'altra cosa, che secondo me è proprio, te l'ha sbattuta in faccia, il fatto che non avessero budget, è l'uso dei flashback, mi spiego, le ambientazioni, se ci fate caso, poche volte fanno vedere un ambiente, un palazzo, un luogo, ok, che viene visitato, a 360 gradi, l'inquadratura è sempre più o meno la solita, cioè, pensate anche sulla Nina e Mattias, no? La nave di Nina e Mattias è solamente la coperta, che è vero, Nina è in coperta, ma Mattias si muove, quindi non ti porta fuori a inquadrare una dimensione più alta, no? Tu sei sempre lì, perché si vede che questa scena è stata fatta, ovviamente dopo, ovviamente con una serie di mezzi un po' di fortuna, e quello era il budget che avevano per quella scena lì, e ad ogni puntata poi devono dare un budget, cioè è complicato fare la produzione di una serie, quindi vabbè, quello è tutto un altro discorso, ovviamente, per dire, quando siamo nel piccolo palazzo, noi più o meno insistiamo sempre su quattro ambienti, la camera di Alina, lo studiolo del Darkling, la sala grande, diciamo, e vabbè, quello che è la mensa della Camst, che è stata trasportata a Ravka, dalla pochezza, vabbè, a parte le battute stupide, ovviamente noi abbiamo una visione molto più ristretta di questi ambienti, perché insistiamo sempre su quelli, quello era il budget che ci consentiva, o di esplorare solo alcune parti del palazzo, mentre invece se ci pensate, guardate solo la differenza che si ha anche con Game of Thrones, dove ci sono molte più inquadrature, quando si entra negli ambienti, di si segue, si vedono tutto, è ovvio che questa cosa non può essere fatta quando non hai lo stesso budget, perché hai meno camere, meno allestimenti, e ovviamente hai meno scene da girare, ok? O comunque scene che puoi fare solo lì, perché hai meno attrezzatura adatta, questo, vabbè, è lo spiegone che nessuno voleva, ma secondo me spiega moltissimo alcune scene, Nina e Mattias sono sempre in coperta, perché? Perché in coperta è un unico ambiente sul quale rendere la storia, poi è vero che Nina sta lì, ma Mattias può andare in giro nella nave, perché non ci fa vedere cosa succede ai fierdiani sopra, perché nessuno dei fierdiani si scende sotto trame per dire ammazzali tutti, cioè ovviamente alcune scene sono evidentemente messe lì in un certo modo, perché il budget consentiva quello, è difficile fare la distribuzione del budget in queste cose, perché quello hai e devi farci stare tutto, quindi ovviamente per alcune cose devi fare dei sacrifici abbastanza evidenti, anche a Ketterdam, che io ho apprezzato abbastanza, però mi ha dato molto l'idea in alcuni punti di essere claustrofobicamente un po' lì, ecco, cioè non mi ha dato l'idea di una città, mi ha dato l'idea neanche del Barrel, proprio di una viuzza, che sicuramente non trovo così sbagliato, anzi, forse anche azzeccato, però ecco, forse avrei voluto vedere un pelo di più, ecco, però c'è capisco, secondo me è evidente, quello che io spero, visto proprio il successo che ha avuto la serie, perché Netflix l'ha avuta in cima alle classifiche dei più guardati, per tre settimane circa, in quasi 15 paesi, quindi davvero questo, secondo me è molto positivo, proprio perché c'è speranza che nella seconda serie, diano una valangata di soldi, io veramente spero solo in questo, perché immaginatevi una scrittura, che non deve fare conti con i soldi, o comunque non deve contare ogni spicciolo, e quindi può permettersi anche a livello di ambientazione, sceneggiatura, e anche espedienti, di spingere sull'acceleratore, secondo me è super evidente, la mancanza di budget in una puntata in particolare, cioè la quarta, che secondo me è da pugnalarsi, proprio con un pugnale di Nege, cioè quando ci sono tutti quei flashback, i flashback in quella puntata, che sono troppi, sono il manifesto del fatto che non avessero budget per girare più scene, e quindi l'espediente in montaggio è stato mettere questi flashback ripetitivi continuamente, invece che girare delle scene nuove, invece che magari riuscire a integrarle con cose diverse, più azione, più scene, eccetera, ma direi che è normale, la cosa che davvero secondo me un pochino si nota effettivamente lì, è proprio che hanno dovuto riempire dei buchi, per arrivare al minutaggio finale, cioè ecco, che poi a me i flashback non è che erano dispiaciuti fino a quel momento, perché erano sempre sensati, ed erano messi un po' lì, un po' col contagoccio, comunque cioè iniziavano, ce ne erano un po' buone, ed erano anche molto dolci, io ve lo giuro che la scena di Aline Mal nella prateria, cioè a me è piaciuta sempre tanto all'inizio, dopo in quella puntata, cioè se avessi rivisto di nuovo quella scena, avrei preso la biro, e me la sarei piantata dentro l'occhio, basta, ne potevo più, ma è evidente che non fosse del tutto voluto quella cosa, perché nessun montatore, nessuna persona che monta un video, ha così voglia di mettertele così di fila, e quindi insomma, ecco, la cosa maggiore secondo me, che ha influito sulle pecche della serie, è il budget evidentemente, però questa è un'impressione ovviamente mia personale, ecco, abbastanza confermata dalla regia che hanno avuto, cioè soprattutto dalle parti tecniche quantomeno, mentre invece ci sono cose molto positive, per dire, la fold, ok, a me è piaciuta moltissimo come è stata resa, secondo me la fold è un'ambientazione perfetta, ho apprezzato moltissimo come sono riusciti a trasmettere tutta questa oscurità, questa divisione, anzi è stata ancora più potente rispetto a come secondo me poteva emergere dal libro, perché hanno proprio creato questa frattura molto tangibile all'occhio umano, anche per chi non aveva riferimenti sulla serie, cioè la fold, io l'ho percepita ancora di più come se fosse il muro di Berlino, come se fosse proprio un chiaro riferimento a una cosa del genere, a una situazione molto simile a quella che tutti noi abbiamo nella testa, la fold ti divide tra vecchia Ravka e nuova Ravka, c'è questa cosa qui importante perché ti esclude tutta una serie di persone e ti crea tutto un contesto molto tangibile, secondo me fighissima, come secondo me molto carina, molto riuscita la scena dell'orfanotrofio, perché è stato tutto molto credibile, ecco molto bello, anche quell'atmosfera è una delle scene più calde di tutta la serie, proprio per distaccarsi anche un po' da questi ambienti invece cupi, freddi eccetera, quindi secondo me quello che hanno fatto in qualche modo è uscito anche abbastanza bene, purtroppo paga il fatto di non aver avuto un budget stellare, che purtroppo in una serie fantasy è quasi essenziale, perché proprio limitare ecco le ambientazioni ancora di più, quando bisogna trasmettere epicità, quando bisogna trasmettere alcune cose, ti limita ecco e ti dà un po' la botta del resto, però vi devo dire che comunque poteva andare peggio, ecco io sono convinta che le cose che vi spiegherò dopo, che a me sono piaciute di meno, quasi la totalità dipenda dal budget, è un po' anche quello che vi avevo detto prima, c'è anche il montaggio un po' ziggogolato, quello avevamo girato, quello dovevamo assemblare, ecco, ma passiamo alle cose che non mi sono piaciute, e visto che le abbiamo introdotte e ne abbiamo parlato, partiamo da quelle che sicuramente non dipendono dal budget, cioè i problemi di scrittura, ci sono due cose in particolare, non è vero sono tre, una continua ad eliminarla dalla mia testa e fingere che non sia mai esistita, ma esiste Tiffany, cioè è stata, l'hai vista, ok, quindi, prima cosa che devo dire, soprattutto riflettendoci nelle settimane dopo, ho accresciuto il mio fastidio, ho visto proprio come proprio più ci pensavo, più effettivamente notavo le robe che mi convincevano meno, ovvero il problema più grande secondo me è la parabola della storyline di Alina, cioè, secondo me Alina, che io ho rivalutato tantissimo nel corso degli anni, pur partendo con un odio profondo verso di lei, ma devo dire ho molto molto rivalutato la situazione, diciamo che Alina soffre di un problema particolare, cioè, la sua storia, l'anio l'ho comunque sempre ammirata, perché alla fine della fiera, lei per quanto si, sia in balia degli interessi amorosi, che non sono più un triangolo, dopo diventeranno altro, comunque insomma, la cosa che ho apprezzato sempre di Alina, è che a lei, di ste robe, cioè del fatto che la volessero qui, là, super giù, per trafà, interessava il giusto, cioè la cosa bella di Alina è che lei, ne frega niente di sta roba, o comunque, sì, magari, aveva il dubbio, com'è giusto che il dubbio fosse istillato, soprattutto nelle situazioni più complesse, ma lei alla fine, si faceva due conti, diceva, a me ne frega qualcosa, a me ne frega niente, cioè, a me di ste robe, cioè, fondamentalmente, sì, mi affascina, però, anche il suo avvicinarsi al Darkling, non era un interesse, secondo me, puramente amoroso, o comunque, non era fatto passare solo con quello, sì, c'era della fascinazione di fondo, assolutamente, perché tu comunque, non puoi non essere affascinata, da una persona del genere, allo stesso tempo, però Alina, secondo me, ha sempre avuto molto chiaro, che soprattutto, ciò che la affascinava, non era solo, la parte, diciamo, di interesse amoroso, il fatto di essere vista, e di essere tutta fru, come effettivamente Alina nella serie, ma, soprattutto, il fatto di, vedere qualcuno, che poteva effettivamente, insegnarle qualcosa, cioè, Alina, questo potere, che secondo me, nella serie, molto bene viene espresso, come qualcosa che lei rifiuta, che non vuole, che non accetta, e fa fatica, a parte che a un certo punto, è anche quasi ridicolo, perché, Alina, stella d'oro, sei una griscia, punto, sei a un palazzo, ti stai lamentando, di avere una camera enorme, e di essere servita e riverita, ok, Kill the Rich, anche qui, lo continuiamo a supportare, però, stella d'oro, che schifo, le robe da ricchi, è poco credibile, per te che hai sempre fatto fatica, a tutto, poi c'è, vabbè, ci sono cose, ovviamente, io la sto buttando in super cacciara, però, diciamo, che se, mentre quella parte lì, cioè il fatto che lei questa roba, fatica ad accettarla, perché fatica ad accettare, a vedere se stessa in questo modo, però allo stesso tempo, l'interesse amoroso, il friccicorino amoroso, eh, perché quando vede il dark, l'incia gli ormoni, c'è le mutande, che le lancerebbe con la fionda, e, ecco, è un po' troppo quello, invece che essere, una, un percorso che ho molto apprezzato, proprio perché in realtà, Alina, quello che è interessata a fare capire, come rivedere se stessa, come immaginare se stessa in una veste nuova, e nel darkling, secondo me, nel libro, lei vede soprattutto, qualcuno che può, in qualche modo, farle capire, chi è, quanto potere ha, ecco, pur essendone sempre un po' affascinata, c'è una differenza sottile, magari in questo aspetto, però poi, dopo diventa enorme, questa palla diventa gigante, no? Cioè, Alina sembra più interessata a, con chi mi metto oggi, con chi sono fidanzata, chi mi risponde ai messaggi, chi non mi gosta, che, effettivamente a fare, un percorso dentro di sé, cioè, io ho un po' sofferto, per la sua rappresentazione, a un certo punto, perché, secondo me, la parte legata agli interessi amorosi di Alina, non dico che non ci fosse, però è sempre stata marginale, rispetto a ciò che lei viveva, c'è questa sua anche attrazione per il potere, cosa che viene quasi praticamente esclusa nella serie, no? Cioè, lei, a un certo punto, lei rifiuta, ovviamente, questa sua nuova concezione, però lei, a un certo punto, è affascinata anche da questo suo nuovo potere, perché la fa sentire bene, in qualche modo, però si interroga sul perché si sente bene, no? Che non è un qualcosa che lei percepisce come sano, perché si rende conto che questa sua nuova sensazione, no? Il fatto di avere un potere enorme, richiama attenzione, eccetera, ma questo è totalmente distante da ciò che è Alina in realtà, e ciò che un pochino latenta di questo nuovo potere, è più che altro un'illusione di qualcosa, o aspirare ad altro, che però non corrisponde a se stessa. Quello che fa Alina è proprio la scoperta della sua nuova identità, che secondo me nella serie manca, perché la sua nuova identità coincide con l'interesse amoroso, tanto che ovviamente è inevitabile che ci sia questo finale, no? È quasi chiamatissimo, perché se tu confondi tutto il piano, non tanto sul fatto che tu e il Darkling siete fondamentalmente equiparabili, ma il fatto che tu un limone glielo cacceresti più di una volta a sorpresa, secondo me la storyline di Alina proprio si appiattisce molto come senso, poteva essere più interessante, come secondo me è più interessante nel libro, posto che secondo me, cioè anche il fatto che Mal verso di lei abbia questo sentimento protettivo, questo detto non detto, secondo me è più riuscita come storyline, ma anche lì sembra quasi veramente che quando lei smolla il Darkling e fugge poi da Mal in quel caso, lei sembra la fidanzatina tradita e va da Mal perché è la risorsa vera e propria che incontra per culo, no? Non lo so, io l'ho trovato un po' piatta come cosa, c'è sempre comunque il fatto che il viaggio dell'eroina in questo caso sia legato ai suoi interessi amorosi, e no, per me no, questa cosa non mi è piaciuta, secondo me si è sacrificato proprio il suo percorso che è molto figo e molto interessante dentro la serie, per quanto sia strano, sia inusuale, sia un sacco di tante cose, per motivi molto evidenti, ovviamente avevamo Ben Barnes, lo dovevamo sfruttare proprio a più non posso, semplificando il messaggio perché è più facile da trasmettere il fatto che lei si senta tradita come fidanzata o come papabile interesse amoroso piuttosto che sentirsi tradita perché si sente usata in quanto ci si è allontanati dal quello che lei stava scoprendo, oppure ha capito che il suo potere non appartiene più a lei, cioè non lo so, è tutto molto molto più piatto, cioè che poi immaginavo come si poteva rappresentare questa cosa meglio, in tanti modi, però nel momento in cui lo stesso Darkling, che è il problema grosso numero due, lo stesso Darkling, motiva le sue scelte sempre di più verso una vicinanza tra due persone che non sono separati però dal punto di vista affettivo, allora è inevitabile che la storyline sia di Alina ma anche un po' quella del Darkling ricada in qualcosa che secondo me potevamo un pochino soprassedere, poi ripeto avevamo Ben Barnes, dovevamo lanciare le mutande dalle finestre, quindi lo abbiamo dovuto sfruttare al massimo, comprensibilissimo, secondo me perde molto la potenza della storia di Alina, che poteva essere una storia molto diversa, anche perché su di lei hanno poi introdotto un sacco di novità che sono, secondo me ci stanno, corrette, ecco, però questa sua incredulità totale quando Bagra le svela che è una merda, sembra quasi che l'abbia tradita il fidanzatino, non che lei si sia sentita usata per il suo potere in maniera abbastanza chiara, cioè è un po' ambigua quella parte lì, che invece è una parte potente dentro il libro, perché lei fa tutto un lavoro molto importante, ricordo che Alina è quella del own me like a peninsula, e invece qua lei non vede l'ora di essere una penisola, cioè makes no sense, e infatti il problema grosso numero due appunto è il Darkling Rega, ovvero il generale Kirigan, ovvero l'oscuro, perché? Perché secondo me si è cercato ovviamente di umanizzarlo, ma in una maniera super becera, cioè la sua storyline, che ora diventa tutto un pippone, è meno drammatico di lui che gli hanno ucciso la fidanzatina, quindi il genocidio è totalmente plausibile come reazione, poverone, gli hanno ammazzato la moglie, la fidanzata, quello che fosse, quindi cioè no, ma è giustificatissimo nell'aver distrutto tutto, aver creato la fold, povero soffre, cioè è una storia alla Magneto, senza però che tu sia Magneto, cioè in Magneto capiamo quella profondità della sofferenza che ti porta all'irrazionalità totale, vittima di olocausto, si ripiglia dopo aver fatto i macelli, gli ammazzano la moglie, la figlia, in un... cioè non so come dire, è ovvio che Magneto è Magneto per un motivo, qua si è cercato di far diventare il Darkling Magneto quando non hai presupposti, e secondo me non c'era nemmeno bisogno, perché è una cosa puramente politica quella che lui stava vivendo, politicamente sfruttare il potere di Alina era la cosa più giusta da fare per proprio tornaconto, non serviva inventarsi delle pippe tipo la story, la backstory, no? Tanto lui la poteva comunque infarloccare dicendole che lei era la sua uguale e continuare su quel filone, tanto lei poi ci cascava come una peracotta, ok? E secondo me quello è stato... cioè questa introduzione nella storia e so che, visto che ho letto varie interviste, che è stato Ben Barnes a voler intervenire, Ben Barnes recita e sta zitto, in pratica, morale da favola, i tuoi contributi fanno un po' cagà. Detto ciò, al di là di questa umanizzazione un po' alla boia di un Giuda del Darkling, il problema soprattutto legato a lui sono i reveal, cioè quando scopriamo che lui è il cattivo, ok, è fatto completamente a cazzo di cane, i sì di sì, cioè arriva Bagra, e dopo da lì inizia il delirio più che totale, proprio fuori di testa, perché non ha senso nulla, ci sono rivelazioni che addirittura sono nel terzo libro, tipo, butto lì, e poi non c'era bisogno, cioè non c'era davvero bisogno di una serie di elementi buttati di già in precedenza, quindi questo mi porta anche un po' a pensare che Tenebre e Ossia la terranno il più breve possibile, cioè cercheranno di risolversi tutto in due stagioni, però davvero secondo me il Darkling l'hanno buttato via da morire a questo punto con questa scrittura. Anche il reveal di chi è, cioè ci sono delle informazioni troppo importanti buttate a caso, quando poteva essere una cosa molto più lenta, ok, e che si costruiva man mano, ma molto più sensata, invece secondo me è così proprio buttarla in cacciara, non so, non sono convintissima, secondo me è proprio una di quelle robe che mi ha fatto anche un po' girare le balle, perché quella doveva essere la big reveal della prima stagione, contando poi che è la big reveal di Tenebre e Ossa, e secondo me è stata sprecatissima, gestita malissimo, tanto che secondo me, proprio per come poi si evolve sta roba, e viene messa in piedi, cioè con lui che butta via tutto, e Bagra che rivela tutto in uno spiegone, bravissima, comunque anche l'attrice che fa Bagra, number one l'attrice che fa Bagra, la cosa che diciamo non ho apprezzato granché, è che dopo c'è questa sorta di nonsense di lui, che prova a continuare a dire ad Alina, dopo che gli ha infilato, bellissimo, io adesso voglio che qualcuno mi impianti delle corna di cervo qua, che è praticissimo anche per andare a letto, però se avessi avuto 16 anni a quest'ora, giuro che me le sarei fatte da qualche parte, comunque volevo dire, dopo che lui ovviamente fa in modo di infilarci il cervo, bla bla, così invece che avere un senso, questo processo, cioè lui ogni tanto passa dal, non me ne frega un cazzo Al, no io e te dobbiamo lavorare insieme, io e te dobbiamo conquistare, ma com'è credibile quella parte lì? Secondo me potevano gestirla in maniera molto più furba, lui poteva essere molto più subdolo in queste parti qui, cercando di evitare il reveal frettoloso, o comunque cercando di accompagnarti lì, lasciando una porta aperta, com'è credibile che Alina a questo punto gli creda, o comunque che Alina, dopo essere stata fondamentalmente maltrattata e aver subito questo impianto contro la sua volontà, non lo so, lo trovo davvero un po' a caso, veramente molto a caso il Darkling, o comunque che secondo me ha perso quell'intenzione che in realtà nel primo libro regge, non lo so, non mi è piaciuto se non si era capito, vabbè, ok, io non so come affrontare questa situazione, cioè il terzo problema che io continuo a fingere che non esista, cioè che non sia stato così, ma il problema grosso di questa serie, oltre ai due precedenti, che secondo me sono i problemi grossi, è Katz Brekker. Allora, non so come affrontarla questa roba, in pratica, io non sono una fan del casting di Freddy Carter, cioè lui non è nemmeno malvagissimo, ma secondo me non è Katz Brekker in primis, è quello it's a problem. La cosa che poi, secondo me, ripeto, a lui gli imputo solo alcuni problemi legati a Katz, soprattutto il fatto che lui sia monoespressivo, cioè praticamente sembra stitico per i tre quarti della puntata, in ogni puntata, cioè non è proprio adatto. La cosa che però, ovviamente, secondo me, è un problema gigantesco, è com'è scritto il suo personaggio, e soprattutto perché lo snatura totalmente dall'essere chi è. Mentre tipo Inej e Jasper escono fuori, come Inej e Jasper, perfetti i miei bambini, Inej, quanto sei bella, poveri miei bambini, vabbè, invece Katz soffre di, io chiamo Katz perché sono stupida, è Kaz, invece soffre di due problemi fondamentali, il primo è che è scritto in maniera passiva, e io non riesco a immaginarmi Katz Brecker come una persona passiva, contando che lui è Dirty Hands, lui è il Bastards of the Barrel. come fai a mettere gli Katz che, a un certo punto, più di una volta peraltro, dice nei piani, ah non abbiamo altro modo di fare, dobbiamo fare così, ma Katz Brecker, ma are you there? Cioè sei tu? Io questa roba non l'ho veramente proprio capita, soprattutto perché non ha senso che lui sia in questa fase, dove, boh, sembra che gli eventi, i piani li facciano tutti tranne lui, cioè lui manda, scusatemi per capire, adesso scusate, arriverò a dire delle cose in maniera sensata, ma è che mi si chiude la vena, ha senso che lui dia dei soldi a Jasper, ma Katz Brecker che dà dei soldi a Jasper, e gliene dà un sacco, e gli affida il compito più importante di tutta sta missione, ma seriously, ma com'è credibile che Katz si fidi di Jasper, boh, vabbè, in pratica gli autori si fidavano di Jasper, è evidente, in tutti i piani Katz è fondamentalmente super passivo, lui non riesce a mettere in piedi un piano sensato, infatti i piani li fanno tutti tranne che lui, quando lui ne fa incide in piccola parte, poi, voglio dire, anche trucchi di magia, lui che si scontra col Darkling, e puff, facciamo i segnali di fumo, facciamo l'effetto Mago Thelma, non lo so, io allucinata da come sia stato scritto Katz, perché ovviamente il fatto che lui sia passivo, lo porta a essere anche, secondo il problema, il personaggio meno efficace di tutta la serie, voi potete immaginarvi una serie dove Katz Brecker non è la superstar, io no, sinceramente, cioè perché se tu mi metti Katz Brecker lì, lui deve bucare lo schermo, lui deve spaccare tutto e tutti, perché lui è Katz, quindi, giustamente, suggerimento da Katz, dato da Clarissa durante le live, era che se dovevano scriverlo così, cioè col culo, perché non c'avevano spazio, non riuscivano a fare maggere una personalità così complessa, che bastava fargli fare i piani, comunque, cioè molto semplice, bastava non metterlo, mandare in missione Inej e Jesper, e far vedere Katz alla fine come il mastermind di tutto, e così aprire la seconda stagione, secondo me Katz scritto così in questa prima stagione, potevano non metterlo, perché è una merda, perché è completamente fuori dal personaggio, io non riesco, veramente mi fa arrabbiare ora, infatti smettiamo di parlare di Katz Brecker, tanto cosa c'è da dire, è scritto di merda, e secondo me Freddy Carter non è la persona più adatta a interpretarlo, però, ripeto, lui ha fatto quello che poteva con il personaggio che aveva, o come era stato scritto, e per me è inaccettabile, inaccettabile, cioè proprio Katz voto 0, cioè non Katz voto 1, 0 proprio, non l'ho ritrovato in niente, questa cosa mi preoccupa, vabbè, quindi, altro problema, secondo me, è l'arc di Zoya, che sapete, insieme a Inej, essere l'amore della mia vita, e Zoya, che a me è piaciuta molto come attrice, cioè spacca, fa super ridere, è molto sexy, cioè secondo me, l'attrice che interpreta Zoya, è molto brava, perché comunque, ha i suoi assi nella manica, e mi è piaciuta tanto, però il problema è un po' l'arc di Zoya, per diversi motivi, innanzitutto, secondo me, sì, è vero che si nota questa sua inimicizia con Alina, ma veramente, scuola elementare, asilo, ok, per tutto il tempo, peraltro, anche lì, quanto emerge che Zoya fosse effettivamente, a capo di tutto e di tutti, quanto emerge la sua presenza nella seconda, il suo ruolo, la sua potenza, il suo essere, effettivamente, il braccio destro del Darkling, ma, proprio, in toto, invece, sembra una, che, se lo faceva, c'è rimasta di merda, perché lui l'ha accantonata per Alina, e quindi diventa anche lì, una diatriba amorosa, una diatriba legata all'interesse amoroso, no, perché secondo me, invece, Zoya è un arc molto figo, proprio perché rappresenta, invece, la conflittualità femminile, o la misoginia interiorizzata, ed è super figo da far vedere, invece qua è molto banale, cioè, tu mi hai rubato fidanzatino, quindi io mi arrabbio, no cazzo, cioè, Zoya è molto di più di questo, poi sì, c'è questa cosa qua, ma è l'ennesimo modo, per far vedere come il Darkling la sfruttasse, banalissimo, è buttato via, questa cosa, molto repentina, non mi è piaciuta molto, anche perché Zoya, arriva ad accumulare tutti questi, a vedere tutte le cose, che lui ha fatto contro di lei anche, non solo contro gli altri, invece qua, sembra che per bontà d'animo, lei abbia capito, che è tutta una stronzata, ecco, questa cosa qua, secondo me, di nuovo, appiattisce l'arc di Zoya, poi ho capito, che è uscito King of Scars, e ci sono delle cose abbastanza dipendenti da questo libro, l'aveva già annunciato lì, ed erano inevitabili, e ok, però Zoya no, cioè Zoya non me la devi toccare, cioè Zoya dagli un arc sensato, mi dispiace, perché secondo me anche qui, sembra veramente una diatriba tra scolarette, una diatriba da prima elementare, e c'era della profondità molto più sensata, anche qui, scelta dovuta a cosa? ha lo spazio, ha il montaggio, ha il fatto che tanto le daremo spazio, dovevamo fare un po', ricorreggere il canon, non lo so, sono un po' dubbiosa, però Zoya no, anche perché su Yaya, secondo me, è molto bella, molto brava, e a me è reso molto bene in scena, l'arc però, male, quello male, Allora arriviamo agli ultimi tre punti, che sono abbastanza veloci, secondo me, cioè, la mancanza, o comunque la carenza, di un world building, un sistema magico, e soprattutto dell'aspetto politico, una delle pecche più grandi, che ovviamente magari coinvolge soprattutto, chi è fan, rispetto a chi non l'ha mai visto, però si nota, ecco, è la mancanza, o proprio di approfondimento totale, di tutto il mondo di Ravka, cioè, non vengono introdotti Grisha, non si spiega come funzionano gli ordini Grisha, che sono un aspetto ovviamente rilevante, in questo mondo, se no, tanto valeva non mettere Grisha, no? Cioè, o mettere delle robe a caso, non spiegare nulla, ecco, l'aspetto politico, perché non si spiegano i conflitti, mentre è molto chiara questa divisione, tra i due mondi, non si spiegano i vari attriti, no? È tutto dato a del razzismo generico, che sì, però, di solito, insomma, non appiattiamo anche questi concetti, il razzismo, deriva da tutta una serie di conflitti etnici, a lungo termine, si capisce molto bene, che i Fierda, Odin, i Grisha, punto, ok? Però, non che c'è qualcosa di sottofondo, ma come anche i reali, vengono gestiti, buttati lì, come se loro non fossero agenti terribili, in questa storia, il war building, cioè tutta Ravka, e tutto il suo sistema magico, sono veramente approssimativi, e secondo me, lì bastava poco, per rendere soprattutto, gli ordini, no? Visto che comunque, alla fine della fiera, è la cosa più importante, legata, proprio, all'essere Grisha, e soprattutto, visto che, alla fine, vorrei vendere del merchandising, no? Vorrei fare in modo che la gente si gasi su queste cose, non serve fare un sito su Netflix, dove scegli il tuo ordine, eccetera, e poi non sai nemmeno che cos'è, per dire, bastava ripetere la scena delle kefte di Alina, quando Alina entra al piccolo palazzo, le devono far scegliere la sua kefta, o le devono dire a quale ordine appartiene, potevano prendersi 45 secondi, per spiegare tutti, la kefta rossa, la kefta blu, tu potresti usare la blu, ma potresti usare anche la nera, perché? Perché non c'è nessuno che ha mai fatto quella, cioè, poteva essere così semplice, oppure, prima introduzione nel campo, dove si allena Nigriscia, far vedere che ci sono tutte le divisioni, vedi, la si allenano loro, la si allenano loro, i loro poteri sono diversi, così, invece, sono tutte cose che noi vediamo proprio super velocemente, e noi riusciamo a comprendere, cioè, poi sono dettagli magari, per dire, le kefte, no? che hanno tutte le varie particolarità in base al proprio ordine, ma in base anche, ovviamente, al proprio potere, perché non cogliere l'occasione per dire, ma perché tu hai questa cosa qua che io non ho? Eh, perché io sono questo, cioè, era facilissimo, e invece non l'hanno fatto, e secondo me perde moltissimo, perché è un aspetto importantissimo di questo universo, come l'aspetto politico, se tu togli dal Grishaverse, tutti conflitti politici, etnici, eccetera, eccetera, non ha senso la storia, ma questa storia poi nasce per mettere proprio in luce quanto siano assurdi e irrazionali questi conflitti, e a cosa portano questi conflitti, che si basano su stereotipi, cose iniziate centinaia di anni prima, ecco, questo è una cosa che secondo me è molto carente nella serie, e bastava davvero poco, anche perché hai lavorato così bene sui costumi, quasi sempre, hai lavorato così bene nell'interpretare comunque gli attacchi da parte dei fierdiani, hai lavorato bene nel far vedere un po' che due, tre accenni di politica della serie, no, ma quali shu sono trattati male, così, ma perché non dare quel contentino di un minuto così si capisce meglio? Domanda. L'altro problema grossissimo, secondo me, è che ovviamente avendo buttato giù tutta sta roba, avendo messo tutti questi personaggi, volendo dare spazio ovviamente un po' a tutti, cosa succede? Non c'è spazio abbastanza per approfondire tutti, quindi sono tutti veramente molto buttati lì, tranno ovviamente soprattutto Alina, poi secondo me ci sono storyline un po' più approfondite, ma fino a un certo punto, tipo in Asia, tanta carne al fuoco, forse troppa. E un'altra cosa che secondo me è molto evidente dalla serie, ma in realtà è evidente, soprattutto dopo aver finito la duologia di King of Scars, parleremo anche di quello, ve lo giuro, è che chiaramente ci sono troppi elementi derivativi dalla rettifica di alcune cose, no, introduzioni che capiamo molto bene in King of Scars e meno qui. E c'è alcune scelte molto forzatone, ecco e si vede, lo annunciò già lì alla presentazione di King of Scars, quindi non stupisce nessuno, alcune cose più riuscite altre meno, ovviamente ci dobbiamo preparare, questo è un adattamento, e quindi insomma ci saranno cose che convinceranno meno di altre, però davvero, per chiudere tutto questo pippone, che finalmente è giunto alla fine per voi, mi sarò dimenticato 8 milioni di cose, ma c'è almeno l'impressione generale che ho io sulle cose che mi sono piaciute e non mi sono piaciute, ce l'avete, ecco. La cosa che a me ha convinto soprattutto è che visivamente sia molto piacevole, ci sia un grande rispetto nello spirito del libro e dei libri poi soprattutto, ma anche che abbiano mantenuto fedeltà a tutto questo immaginario, che secondo me comunque è molto importante. La cosa che mi hanno convinto meno sono quelle fratture dove effettivamente la storia si semplifica o perde potenza, che mi dispiace sinceramente un pochino, allo stesso tempo dove magari la storyline subisce gli effetti del budget, perché chiaramente una quarta puntata dove ci fossero state molte più scene girate sarebbe stata molto meglio, sarebbe stata molto più dinamica, sarebbe stata anche molto più espansa dal punto di vista dell'immaginario, invece si è ovviamente dovuto far così ed è troppo evidente. Quindi sì, insomma, sono contenta perché, ve lo giuro raga, io il giorno in cui ho premuto play, ho avuto quasi un attacco di panico perché ero presa un po' male, però sono molto contenta che sia venuto fuori comunque questo, che può migliorare certamente, però ricordiamoci che alla fine per essere un prodotto di genere fantasy su Netflix in questo momento è uno oggettivamente dei migliori da tanti punti di vista, che può migliorare peraltro tantissimo, quindi io sono abbastanza contenta. Alcune scelte di Eric sinceramente non le ho condivise, ripeto, Catsbreaker è un problema e lui ha cercato di mettere una pezza dicendo che no, ma ogni persona vede Catsbreaker in un modo diverso, una ciccio, cioè, con chi pensi di avere a che fare, cioè, quindi boh, quelle cose lì sinceramente mi ha lasciato un po' così, lì è intervenuta, ma ovviamente fino a un certo punto, perché lei è produttrice esecutiva, ma non ha in mano tutto, comunque magari può aver accettato alcune cose anche dovute ai soldi che c'erano, quindi io diciamo che sono molto fiduciosa sulla seconda serie, soprattutto anche perché arriva Nicolai, quindi davvero carica di questa nuova introduzione, e sono curiosa di sapere cosa ne faranno, ecco, di cosa salterà fuori, però devo dirvi davvero sono abbastanza contenta, pensavo di buttarmi giù dalle scale inizialmente, invece alla fine sono ancora qua e non è andata male, dai, poteva andare peggio, con tutta una serie di problematiche che vanno sistemate, e soprattutto dopo questo video sanno tutti che mi devono assumere per la colonna sonora, ok? Ci sono comunque le mie playlist dedicate giù nell'infobox, vabbè qua siamo al delirio rega, boh, direi che siamo arrivati in fondo, sicuramente non ho detto tutto, ma la mia impressione ce l'avete, quindi direi che... Avete presente le book influencer o comunque chi parla di libri online e lo fa a modo, fa tutto per bene, fa i montaggi per bene, e poi ci sono io che non mi ero accorta che era scattata la fine della clip nella telecamera, e quindi non è venuto il finale, ma in tutto ciò voi siete abituati, comunque che grande ritorno su YouTube, per fortuna non abbiamo aspettative, detto ciò niente rega più o meno quello che avete visto in quest'ora è tutto ciò che penso della serie di Shadow and Bone, pregi, difetti, poi ce ne sarebbero da dire, ma insomma mi sembra che un'ora di video sia già sufficiente per elaborare tutto quello che ho elaborato, e niente, quindi io adesso vi chiederei giù nei commenti, ci sentiamo, così mi dite intanto i vostri pareri, e magari discutiamo sulle cosine, quelle che ho detto io che a me non sono piaciute, magari a voi sono piaciuto un sacco, e poi mi fate sapere cosa ne pensate voi, ovviamente c'è anche Pipi in questo finale, come sempre ormai è lei quella che dirige il canale, ha deciso di essere lei la protagonista, detto ciò, Stella io vi ringrazio, come sempre portate pazienza, perché inizio a essere completamente inadeguata, a stare su qualsiasi social, ma comunque insomma accettatemi per ciò che sono, detto ciò, ci sentiamo giù nei commenti, e direi che noi ci vediamo al prossimo video, ciao!